15 novembre 1933 A soli 21 anni, Giulio Einaudi fonda a Torino l'omonima casa editrice L'impresa sede al terzo piano di via Arcivescovado 7 nello stesso palazzo che aveva ospitato l'ordine nuovo di Antonio Gramsci Colonne portanti della casa editrice sono Cesare Pavese e Leone Ginzburg Quando abbiamo pubblicato la lettera dal carcere di Gramsci Un altro momento è quando è uscito la storia d'Italia Il primo volume della storia d'Italia Un altro momento è quando abbiamo pubblicato il primo libro di racconti, di narrativa Che è stato Paesi tuoi di Cesare Pavese